Eccoci qua, vi voglio presentare la nonna di tutte le nonne, una guagliuncella, una signorina, signore e signori, guardate qua, la tenere età di 95 anni, a Miro Carvera, nonna Ida, eh, nonna Ida, allora un messaggio per tutti i tifosi del Napoli, cosa vuole dire? Forza Napoli, tutti, come si dice, hai detto? Forza Napoli, facci sognare, eh, forza Napoli, bella e facci sognare, via. Dici, ciuccia, fai tu, ciuccia, fai tu, se no vengiamo lo scudetto, eh, se no vengiamo lo scudetto, insieme amici più, insieme amici più, vabbè, un bacio a tutti i napolenari, manda un bacio, bella notte, bella, bella, a Napoli, bella Napoli, eh, alla prossima, ciao, ciao, bella Napoli, ciao.